Una Firenze tricolore ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è stato il primo ed eccellente passeggero della nuova linea della tramvia, che collega a Piazza dell'Unità e il centro di Firenze con l'aeroporto di Peretola. La visita fiorentina del Presidente è iniziata questa mattina da Piazza Santissima Annunziata, dove ha celebrato i 600 anni dell'Istituto degli Innocenti, accolto da tantissimi applausi e dal piccolo coro del melograno. Subito dopo è stato il momento della tramvia, dove Mattarella ha presenziato la cerimonia inaugurale della T2 all'aeroporto di Firenze, con il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, il Sindaco Dario Nardella, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci. Una mattinata certamente ricca di emozioni e soddisfazioni, segno di quanto siano importanti le opere pubbliche per questa città, ma è stata anche l'occasione per fare il punto sulle nuove linee della tramvia e sul futuro delle infrastrutture fiorentine. È stata molto emozionante la presenza del Presidente e comunque anche la presenza del Ministro per riconoscere l'importanza di questa opera, che ha una valenza anche nazionale, perché oggi chiaramente abbiamo un riconoscimento a livello nazionale, è stato tutto molto bello, è stato impegnativo realizzare l'opera in questi quattro anni e mezzo, ma però oggi siamo soddisfatti e questo ci fa anche pensare che già fin da stasera penseremo anche a quelle che dobbiamo realizzare in futuro per chiudere un po' il sistema tramviario dell'area fiorentina. Ho registrato dal Ministro Toninelli un atteggiamento non ostile pregiudizialmente, questo lo ritengo un punto positivo, perché abbiamo fatto vedere al Ministro cosa sta facendo la città, abbiamo fatto vedere che noi le tramvie le realizziamo davvero, abbiamo fatto vedere che ci sono opere pubbliche che non inquinano e che funzionano, gli abbiamo fatto vedere il cantiere dell'alta velocità e gli abbiamo anche fatto vedere le ditte che sono all'opera. Veramente nella tramvia di Firenze c'è l'eccellenza tecnologica edilizia mondiale e qui ci sono tutti i vertici delle ditte, quando si racconta l'Italia che non funziona, l'Italia che ruba soldi, l'Italia che non finisce le opere pubbliche, dobbiamo ricordarci che invece ci sono esempi positivi. Non c'è stata una ruberia, non c'è stato uno scandalo giudiziario, non c'è stato un problema che non lo si sia affrontato e non lo si sia superato e alla fine, fatemelo dire, cinque anni fa pochi avrebbero scommesso che in un solo mandato avremmo realizzato due linee tramviarie. Credo che nessuna città italiana, lo possono dire le ditte che sono qui, sia stata capace di fare una cosa del genere. Quando si gioca in squadra si fa bene.